Avvia Primus Asbim. Di default, il programma si apre con attiva la modalità Desktop. In questa modalità operi come hai sempre fatto. Crei un nuovo documento. Apri un tariffario. E realizzi il tuo computo come al solito. Al termine, torni sulla Home, e selezioni Salva con nome, per salvare il documento in una cartella del tuo PC. Quindi tutto come prima. Ma oggi hai un'altra possibilità. Puoi salvare il file appena creato direttamente nel tuo spazio Cloud. Dalla Home, attivi la modalità, Classic For Asbim. Selezioni Salva con nome, e nella finestra omonima, scegli la cartella del tuo cloud in cui salvare il documento. Dai quindi un nome al file, e clicchi su Salva. Il lavoro, inizialmente creato e salvato sul tuo PC, è ora salvato anche sul tuo cloud, come testimonia la presenza su di esso del logo Asbim. Ma non è tutto. Puoi fare anche il contrario. Puoi aprire ad esempio, un file presente sul tuo cloud, e salvarlo direttamente sul tuo PC. Ti basta tornare sulla Home, attivare la modalità Desktop e cliccare su Salva con nome. Scelto dove salvarlo e con quale nome, confermi, ed il file è ora salvato anche sul tuo PC, infatti, su di esso non è più presente il logo Asbim.